Buongiorno a tutti, sono sempre VictorLazzo88 Allora, finalmente ho il programma degli incontri di Lucca Lo so, Lucca Comics & Games inizia domani Il previso forse è un po' poco Ma alcune date e alcune orari me li hanno comunicati solo poco fa Quindi non volevo dare un programma incompleto Sul mio profilo Instagram, VictorLazzo88, che trovate linkato in descrizione qui sotto Trovate una grafica bruttissima, ma perfettamente leggibile e chiara Dove trovate la lista degli eventi Ve la leggo rapidamente Allora, domani che è venerdì 28 ottobre Ci vediamo alle ore 18 allo stand Polignani Che è in Piazza Napoleone, padiglione NAP 125 C'è il film a copia del mio libro Il vero e il fantasma Possiamo fare due chiacchiere, fare tutte le foto che volete E si sta insieme Poi alle 19.30, sempre di domani Sarò al Red Carpet di Dampir Poi ci sarà la proiezione del film Quindi se mi beccate possiamo tranquillamente chiacchierare Poi il sabato è una giornata molto impegnata Sono pieno fine capelli, quindi non ci saranno incontri Però se mi beccate in giro per Lucca Potete tranquillamente fermarvi Massimo, se sono di fretta ve lo dico E vi do appuntamento al prossimo incontro programmato Però se non sono di fretta non fatevi problemi Voi fermatemi comunque Nel caso ve lo dico io, se posso fermarmi pure no Però a me fa piacere, lo sapete Poi domenica ore 17 Ci vediamo allo stand di Asbro In Piazza Santa Maria Dove farò per Cultura Pop L'unboxing Del cubo gelatinoso di D&D E può essere anche una cosa interattiva Magari posso interagire con voi Parlare Può essere una cosa un po' carina Non è niente male perché poi il tutto verrà caricato Su canale YouTube di Cultura Pop Quindi verrà registrato Poi lunedì è la giornata più piena Perché alle 14 c'è il raduno in Piazza San Michele Quindi quello che facciamo ogni anno per incontrarci Per cui mi trovate lì davanti alla porta della chiesa Ed è un'oretta prima del raduno Per il cospedio di Tim Burton Dove dicono che ci sarà una sorpresa Quindi chissà cosa succederà Per cui ho detto Invece di farlo in contemporanea Lo faccio un'ora prima Così poi chi vuole spostarsi Che tanto è sempre lì in Piazza San Michele Può farlo Ed è già sul luogo Ecco L'ho fatto perché so che tanti magari vogliono andare lì Per cui A ore 14 c'è il raduno in Piazza San Michele Dopodiché Alle 17 di lunedì 31 Sarò allo stand di Hasbro Per fare L'unboxing Stavolta Del Tesseract di Marvel Legends Stesso discorso Che ho fatto per l'unboxing Del giorno prima Si sta insieme Si chiacchiera Si può fare un unboxing interattivo Eccetera E poi alle ore 18 Mi trovate sempre allo stand Polignani In Piazza Napoleone Il primo di novembre Non ho messo i venti Perché io vado via l'uno Ma non so se prima Passo per la fiera Allora ho detto Non Metto incontri Così almeno Nel caso la gente se vuole Mi ferma Se mi incontro in giro Se invece non vado Non c'è niente di programmato Che tradisco Ecco Quindi Se vi interessa Ci vediamo a Luca Così vi spezzo di abbracci Ora però Bando le cianci Iniziamo subito Con il video di oggi Sigla Allora Finalmente è giunto il momento Di parlare Della quarta stagione Di una serie Che io Fino a un annetto e mezzo fa Non credevo Che avremmo mai visto Perché Se ne parla Da tanti Tantissimi anni E non sembrava Che le condizioni Fossero favorevoli Perché Questa stagione Venisse effettivamente Prodotta E poi A sorpresa Più di un anno fa È stato detto Che sì Si sarebbe fatta Men che non si dica Eccoci qua Non mi sembra quasi vero Mi riferisco naturalmente A Boris 4 Allora Io ho già fatto un video Su Boris E per quanto mi riguarda È una Delle mie serie preferite Anche perché È atipica Per essere una serie italiana È una serie comica Ma Mette in gioco Una comicità Completamente diversa A quella A cui tanti prodotti italiani Ci hanno abituati E molte persone Purtroppo Sono schizzinose O diffidenti Nei confronti Dei prodotti nostrani Soprattutto quando Si tratta Di prodotti comici Perché Prima di Boris L'unica serie italiana Comica Che era veramente Tanto amata Dal pubblico Era Camera Cafè Che però Non era una serie Originale italiana Era un format Francese Che è stato venduto A tantissimi paesi Nel mondo C'è anche la versione Giapponese Pensate Però A detta di molti E io sono anche d'accordo Perché ho visto anche Altre versioni Quella italiana È la migliore E Quindi Quando Boris Soprattutto durante la pandemia È stato scoperto A tante persone Molti mi venivano a chiedere Ma vale la pena Perché Insomma Una serie italiana Ma è la comicità italiana Fa cagare Sono gusti ovviamente Ma non c'entra niente Con qualunque altra cosa Di italiano Che abbiate mai visto È una comicità Particolarissima Cattiva Cinica E Boris È una serie Che prende in giro Il sistema Della televisione italiana Il sistema Delle raccomandazioni Dei favori politici È una serie Molto politica Molto poco italiana Chi ha visto Boris Sa di cosa parlo Quindi Quando è stato detto Che finalmente La quarta stagione Sarebbe entrata in produzione Io non potevo crederci Ho detto Oh mio Dio Anche perché Nel frattempo Purtroppo Qualc'anno fa È morto Uno dei tre Sceneggiatori E creatori Della serie Mattia Torre Gli altri due Vendruscolo E Ciarrapico Si sono ritrovati Improvvisamente Senza il loro amico E collega Quindi io mi chiedevo Ma Riusciranno Loro due Da soli A Riportare Boris Agli antichi fasti In realtà a me non interessava Neanche che tornasse Agli antichi fasti A me interessava Che tornasse Anche perché Quando tanto tempo fa Qualcuno chiese A Mattia Torre Un giornalista Gli chiese Se avrebbero fatto La quarta stagione Di Boris Lui rispose E che dobbiamo dire Ancora Perché hanno fatto Tre stagioni E un film Il film sottovalutatissimo Che Richiedeva però Una certa conoscenza Della serie Perché i personaggi Non è che te li presentassero Li conoscevi O non li conoscevi Quindi era molto Per i fan Ecco Dopo il film Avevano detto tutto Si erano anche Approcciati al discorso Critica Al cinema In Italia E al sistema Cinema Produttivo Quindi non c'era più Niente da dire E all'epoca era vero Poi nel corso del tempo Tutto questo è cambiato È cambiato E adesso C'è davvero tanto da dire Perché la televisione È cambiata Non solo in Italia Ma in tutto il mondo La tv viene guardata Sempre di meno E le serie Si stanno spostando Sempre di più Sulle piattaforme di streaming E quindi Boris 4 Parla Della solita troupe Che deve girare una serie Per una piattaforma Di streaming Che Non è che si sia capito Bene bene Quale sia Poi È ironico Che La serie La troviate su Disney Plus Peraltro su Disney Plus Trovate tutto Le prime tre stagioni Il film E questa quarta stagione Per cui Se non avete mai visto Boris Potete recuperarlo Completamente su Disney Plus Ora Quello che io ho adorato Di Boris 4 Perché si L'ho adorata È proprio il fatto È proprio il fatto che Si siano tutti Messi in gioco Nonostante il tempo Che è passato E nel primo episodio Vedevamo i vecchi protagonisti E comprimari Un po' Imbolsiti Stanchi Scarichi Però Di questo Si prendono gioco Gli sceneggiatori stessi Si ride tanto Della condizione Dei personaggi Che ormai Nia fanno più E questa cosa Mi è piaciuta tantissimo Poi Già dal secondo episodio Tornano a mordere A graffiare Io Sono rimasto Veramente contento Da tanti personaggi Mariano Su tutti Ragazzi Posso dire solo Pepperoni Solo quella cosa È già cult Ecco Boris È una delle pochissime serie italiane Che sono citabili Che sono diventate Dei veri e propri cult Ci sono Io Boris La cito Quanto è forse Anche più di Scrubs Per me è citabile Tanto quanto i film Di Aldo Giovanni e Giacomo Che io cito Su base quotidiana E ci sono espressioni Che sono entrate Nell'immaginario collettivo Fare le cose A cazzo de cane Non è che se Le sono inventate in Boris Però è un'espressione Che si è diffusa maggiormente Nel corso Degli anni Dopo l'uscita Della serie Oppure Smarmella Apri tutto E anche Coffee break Signori Ma potrei andare avanti Ce ne sono Tantissime La cosa Della puntata Dell'attentato Della clinica Che è una cosa Che ogni tanto Salta fuori La cosa di Libeccio Di Capri Gli straordinari D'aprile È un cult assoluto Nel nostro paese Boris Dapprima era un cult Di nicchia Poi Durante la pandemia In tanti Se la sono recuperata Perché era Tornata Era prima su Netflix Poi su Disney Plus E da lì L'hanno conosciuta Sempre più persone Infatti Da quello che ho capito Sta andando Molto molto bene E È una serie Estremamente Difettosa e imperfetta Cioè è una stagione Estremamente Difettosa e imperfetta Io Sono anche contento Che sia così Perché dopo tanto tempo Non era facile Fare qualcosa Che fosse perfetto Che fosse esattamente Come Lo volevo Eppure Nella sua imperfezione È esattamente Come l'avrei voluta È una stagione In cui Si aprono sotto trame Che non si chiudono mai Oppure si chiudono sotto trame In maniera molto blanda E spesso anche Abbastanza insensata Ci sono personaggi Che non hanno Alcuno sbocco E neanche una conclusione Però Funzionano Ed è una stagione Che funziona Anche nei momenti In cui la narrazione Si inceppa Perché comunque Vendruscolo e Ciarrapico A un certo punto Hanno fatto Quello Che serviva loro E non quello Che serviva Allo spettatore A un certo punto Si sono proprio Non dico dimenticati Ma Si devono essere detti Beh facciamo Quello Che vogliamo fare noi Sti cazzi Dell'esigenza Dello spettatore E Si arriva ad un finale Quasi ermetico Se vogliamo Perché c'è una scena Che molti Si sono chiesti Cosa significhi Io sono riuscito Da canto mio A darle Un'interpretazione Non so se sia quella giusta Ma non so neanche se esista Un'interpretazione giusta Per quella specifica scena Verso la fine Ma credo che L'ultimo minuto Sia una delle cose Più strazianti E dolci Che io abbia visto Negli ultimi tempi Io Ho pianto Ma disperato Sarà che ero anche In un momento in cui Ero stanco Prima di Lucca Ho dovuto fare un sacco Di lavori Non sto dormendo Poi figurati A Lucca Dormirò ancora meno Dopo Lucca A un certo punto Devo fare un evento All'estero Quindi Per me sono giorni Veramente Mostruosi Per cui sono un po' più sensibile Se vedo qualcosa Che mi fa anche solo Versare una lacrima Quando sono in questo Stato mentale Inizio a piangere Come una fontana Perché mi sblocca Un sacco di Sentimenti diversi Io ho pianto Perché Credo sia Un qualcosa di bellissimo Perché È triste Ma è anche Cioè fa anche sorridere Allo stesso tempo È proprio dolce È tenero È una cosa che mi è piaciuta Tantissimo E poi Ci sono tanti personaggi Che finalmente Rivediamo Mariano Stanis Corinna René Arianna Alessandro Duccio Il grande Duccio No shooting Lorenzo Tutti Sono trovati tutti Anche Piccoli personaggi Che però hanno caratterizzato Boris All'epoca Ma soprattutto Sono tantissime Le citazioni Tanti riferimenti Alle stagioni precedenti Per cui Dico subito Che Se mi si chiede Posso vedere Boris 4 Senza aver visto Le tre stagioni precedenti Si può fare Può anche essere Uno starting point Ma ti perdi Il 90% Della bellezza Di questa serie Quindi il mio consiglio è Visto che è tutto Su Disney Plus Guardatevi Le prime tre stagioni Sono circa 13 episodi Di ciascuna Ma di mezz'ora L'uno Passano subito E guardate Anche il film Che secondo me Fa un discorso Abbastanza interessante Che forse è leggermente Invecchiato Perché si parla Di cinepanettoni Filone che ormai Non esiste più Però all'epoca Imperversavano Abbastanza E io Sono rimasto Veramente Contento Perché Sono tornato All'epoca In cui guardavo Boris Perché io Sono fan Della prima ora Io lo guardavo Quando ancora Andavo in onda Su Sky Perché è una serie Di Fox Channels Italy Poi ovviamente Disney ha comprato La Fox E adesso L'hanno prodotta loro Per Disney Plus Per Star Diciamo E Però io la guardavo Su Sky E pensavo Ma questa roba È geniale È fuori di testa Dicevo Io non ho mai visto Niente in Italia Di fatto così bene Così cattivo Con gente Che pippa la cocaina Che peraltro Lo si diceva Nella live Che ha fatto Dario Moccia In cui mi ha invitato Ieri Per parlare di Boris 4 Quello dei set Un ambiente in guigile A tantissima droga E quindi Anche mostrare questa cosa Ridendoci su Per l'amor del cielo Era qualcosa Di abbastanza innovativo Non è una serie ipocrita È una serie Che ha lanciato Anche tanti Attori che prima Non si inculava nessuno Nini Bruschetta Che è Duccio Ha iniziato a lavorare Grazie a Bo Ha iniziato a essere Conosciuto grazie a Boris Paolo Calabresi Prima di andare alle Iene Prima di diventare Il personaggio Che adesso Non è che lo conoscessero In tanti Prima che interpretasse Biascica In Boris Lo stesso Pannofino Era più conosciuto Come doppiatore Che come attore Caterina Guzzanti Che sì Già lavorava prima Ma con Boris È stata consacrata Pietro Sermonti Che prima di Di questa serie Aveva giusto Interpretato il personaggio In un medico In famiglia E poi è diventato Stanisla Rochelle Per tutti È lui E ha lavorato Tanto dopo Ma lo stesso Valerio Aprea Che interpreta Uno dei tre sceneggiatori Insomma Io sono rimasto Veramente contento Nel vedere Che sono tornati tutti Sono forse un po' stanchi Ma non hanno smesso Di tirar fuori Le unghie E Boris Ancora una volta Capisce perfettamente Cosa va criticato Cosa bisogna Discutere La questione Politicamente corretto A volte forzato La questione Dell'algoritmo Per cui Chi lavora Nelle piattaforme Stim sembra ossessionato A livello di produzione Insomma È una stagione Che a me è piaciuta Da morire Pur con i suoi difetti Perché io non nego Capire i difetti Però Apprezzo anche I suoi difetti Sono stato Completamente Totalmente Soddisfatto Da questo ritorno Perché è un ritorno Molto malinconico Si ride Ma forse si riflette E si prova Ancora di più Un senso Di malinconia Cioè È più questo Che il ridere Poi è pieno Di battute geniali Che mi hanno ammazzato Ci sono dei momenti Che mi hanno seriamente Fatto soffocare Dal ridere Ma Mi ha fatto Veramente piacere Riscoprirmi A riflettere Riscoprirmi A pensare A certe cose Molto amare Perché C'è nostalgia C'è malinconia È una stagione Molto malinconica E credo che Dopo la morte Di Mattia Torre Dopo tutto questo tempo Che è passato Non poteva che essere Una stagione malinconica Per forza Non si poteva fare Altrimenti Non poteva essere Diversa Da così E io Sono contento Sono contento Perché davvero Ho guardato questa stagione Peraltro I primi due episodi Li ho visti in anteprima Li ho visti Se non sbaglio Lunedì Li ho visti lunedì In anteprima E sono rimasto Contentissimo Anche perché Il finale Della prima puntata È stata una stoccata Al cuore Devo essere sincero Non dico nulla Però ho detto Ah Minchia Perché ci sono dei momenti Che non ti aspetti Da una serie come Boris E poi Guardando il resto Mercoledì Cioè ieri Sono rimasto stregato Io non so Se faranno una quinta stagione Francamente Spero di no Perché secondo me Con questa stagione Si mette il punto A Boris O meglio Mi va bene Se me la fanno Tra qualche anno Perché Boris Per me È una Di quelle serie Uno di quei prodotti Che andrebbero aggiornati Ogni tot anni Ogni decade Ok Perché ogni dieci anni Il panorama televisivo È cambiato E si possono criticare Cose nuove Si può trovare qualcosa Di nuovo Di cui parlare Quindi se la facessero Tra due anni Non so quanto avrebbe Senso Ma se la facessero Nel 2032 Che sono passati dieci anni Allora Avrebbe senso Perché sono sicuro Che nel 2032 Lo stato Delle produzioni Televisive Cinematografiche È completamente cambiato Rispetto a oggi Per cui secondo me È un qualcosa Che ogni tot Andrebbe aggiornato Poi a un certo punto Non si potrà più fare Perché già Per questa stagione Ci sono degli attori Che sono purtroppo Venuti a mancare Come la grande Roberta Fiorentini Che aveva lavorato Anche con Sorrentino Che era itala E L'attore che interpretava Il dottor cane Quindi qui viene Viene citato Il dottor cane Ma non compare Perché era appunto L'attore morto Oppure C'è anche Sergio Che è un personaggio Che io adoro Perché Sergio Rappresenta il marcio Di questa società Del sistema Delle fiction È quello Che non vuole mai Spendere soldi Che cerca sempre Di truffare Ogni tanto in galera Oppure Se non lo vediamo in galera Parla di quando Era stato Argabbio La famosa La frase In una delle stagioni precedenti Ah oh Sia chiaro Io Argabbio Non ci torno Quando Alessandro Si fa male All'inizio della seconda stagione Quindi È una È stato un po' Un peccato Vedere l'attore Che interpreta Sergio Chiaramente In difficoltà Perché in poche scene Lo hanno defilato Perché è chiaro Che l'attore Non sta molto bene Anche da come parla Lo si capisce Però l'ho visto fresco L'ho visto Nonostante non fosse in forma A livello di salute Non mi è sembrato star bene L'ho visto comunque Brillare di luce propria Si vedeva che era contento Di essere lì Anche se per poco Questa cosa mi fa tanto piacere Per cui È anche girata molto bene Si vede che c'è un budget superiore Le musiche Sono più o meno le stesse Delle stagioni precedenti Hanno mantenuto la tradizione Hanno anche mantenuto Alcune delle musiche Del film Ed è una stagione Che abbraccia I ricordi Di tutto quello Che è stato Film compreso Per cui ragazzi Se non avete mai visto Boris Fatevelo un regalo Riscoprite un prodotto italiano Per una volta Che in Italia Si fa qualcosa A livello seriale Che non è una fiction Qualcosa di completamente diverso Non fate l'errore Di avere pregiudizio Perché io vi assicuro Che guardandola Anche se magari Non vi piace Perché non è Il vostro gusto personale Scoprirete qualcosa Che comunque non avevate mai visto Fatto in questo modo Nel nostro paese Ve lo garantisco Anche non dovesse piacervi Comunque dovrete per forza Diconoscere Che quantomeno è qualcosa Di completamente Diverso Differente dal solito E quindi Quando ci sono prodotti Come questo Dal lato nostrano Per quanto riguarda L'Italia Secondo me È il caso di guardarli E se invece Avete già visto Le stagioni precedenti Non abbiate timore Guardate questa Perché rimarrete sicuramente Sconvolti Da tante cose Quindi questo Era il discorso generico Adesso voglio andare un po' Più nello specifico E fare spoiler E parlare per bene Di tutto quanto Perché sarà un video Penso abbastanza lungo Almeno un 40 minuti dura Quindi ve lo dico già Perché ho tante cose da dire Per cui se non avete ancora visto La quarta stagione di Boris Che è uscita completa Penso si fosse capito Dal discorso che ho fatto Non proseguite la visione Di questo video Se invece l'avete già visto E volete sapere La mia più nello specifico Adesso iniziamo con gli spoiler Siete avvisati Allora Innanzitutto Ci sono delle trovate In questa stagione Che sono veramente Allucinanti Ad esempio La questione di Lopez Che è in società Con suo cugino Michele Che è chiaramente Dell'Andrangheta E che quindi Gli ha imposto Di prendere Tra le comparse Tutti i suoi uomini Calabresi E quindi c'è questa cosa Delle comparse calabresi Che fanno i palestinesi E c'è la scena Del è finito L'uvinu Eh sì sì ma Ma più palestinese Più palestinese Io lì stavo morendo Ma è solo una Delle genialate Di questa stagione La parte con Mariano Mariano che è diventato famoso Per una serie Girata in Canada Che si chiama Pepperone In cui interpreta Un gangster Italo americano Che quando gli chiedono Di risolvere dei problemi Con varie fazioni Lui dice sempre Pepperone E a questa parola Si vede l'inquadratura Di qualcosa che esplode E io lì Ero in lacrime Perché cosa devi dire Anche tutto il discorso Sul padre Quando lui prende la pistola Dice questa pistola Mi ricorda mio padre Ma perché anche lui Aveva una pistola No no Mi ricorda proprio mio padre Con questo muso lungo Cromato E' morto tuo padre No sta bellissimo Sta benissimo Lo vorrei cremare Perché poi a Viterbo I migliori formi crematori Stanno a Viterbo Ma non si riesce a trovare Cioè quella cosa è bellissima Perché poi c'è lui Che minaccia più avanti Nella stagione La troupe Che non sta lavorando Con la pistola E dice io ero venuto in Italia Ero tornato in Italia Perché voglio cremare mio padre Se lo trovo Questa cosa È geniale Ma c'è anche la questione Bellissima Dei tre sceneggiatori Perché effettivamente All'inizio ci sono I tre sceneggiatori Ma parlano solo Due di loro Valerio Aprea È sempre zitto E io dicevo Boh ma come mai È così defilato Poi Però non è che ci fai Troppo caso Noti che non sta parlando E lui dice Boh si vede che Non ha molto Non ha niente La diretta È strano Quando poi Si chiude il primo episodio E si vede uno Di sceneggiatori Che parla con Aprea E dice Ma dimmi collega Com'è l'inferno E si vede lui Che si dissolve Ne parlavo con Dario Lui ha detto una cosa Con cui io concordo Cioè Lui avrebbe Staccato su di loro Riattaccato Sulla sedia Dove era seduto Aprea E si vedeva Che era vuota Era forse un po' più evocativo Però devo dire Che così Ci sono forse Rimasto più male Perché c'è lui Che dice Beh Ti dirò Non è così male È pieno di quarte stagioni E È morto Non ti dicono come Non ti spiegano il perché Però è morto E questo conferma Un sospetto Che io ho sempre avuto Perché era chiaro Che i tre sceneggiatori Fossero Una parodia Di Vendruscolo Torre Ciarapico Si prendevano in giro Da soli Ma io ho sempre pensato Che quello che spiccava Di più dei tre Era Aprea E che quindi Lui rappresentasse Mattia Torre E me l'hanno confermato Con Aprea Che è morto Cioè il personaggio Ovviamente Aprea viveva Il personaggio è morto Quindi Io ci sono rimasto malissimo E lì con la svetra Quando vedi che scompare E c'è Quei tre secondi Ci sono quei tre secondi di silenzio Con L'altro che dice Vabbè Io vado a casa Io e la svetra ci siamo guardati E ho detto Ma è morto Oddio E lì abbiamo capito Che è Torre E quindi Io mentre ne parlo Ho gli occhi un po' lucidi Perché È tutto un grande omaggio A Mattia Torre In un certo senso E mi piace vedere I personaggi Così Così Stanchi Che non ce la fanno più Ma non tanto gli attori Ma proprio i personaggi Anche la questione Molti si sono lamentati Ho notato Eh ma non hanno spiegato Della love story Tra Rian e Alessandro Non c'era niente da spiegare C'è pochissimo contatto Tra loro due Si vede che ci sono dei dissapori Però Alessandro È diventato Uno dei capoccia Per l'Italia Della piattaforma Per cui viene girata Questa serie In realtà la serie La stanno girando E vorrebbero Che la piattaforma Dia il lock Cioè che confermi La sua entrata nel progetto Ma loro non ne hanno La sicurezza E devono cercare Di far sì che la piattaforma Appoggi la produzione Perché è una coproduzione Tra la QQQ Di qualità 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 Di Lopez E suo cugino Michele L'ondranghetista E Stanis Con la SNIP La So Not Italian Production Perché Stanis In questa serie È attore Produttore Ma è anche marito Di Corinna Nel privato E infatti Cioè loro due Stanno insieme Ma si capisce Che le cose Non funzionano Appropriissimo È un po' Una sorta di tira e molla Però a me Stanis è piaciuto Perché lui ovviamente Interpreta Gesù Nonostante Ormai sia sulla cinquantina E c'è Ogni tanto In maniera Non troppo ingombrante Perché è una battuta Che torna ogni tanto Ma non in maniera ossessiva Nei momenti giusti Di Stanis Che dice Allora Lo Stanis attore Ha parlato con lo Stanis produttore Allo Stanis produttore Questa cosa non piace Mentre invece Lo Stanis produttore Piace un sacco Questa cosa È divertente Perché Stanis È il solito megalomane E qui si capisce Che per l'appunto Stanis ormai Ha perso completamente La visione complessiva Del tutto È diventato un po' La parodia di se stesso Ulteriormente Ma è così Che lo volevo Cioè È successo tanto In questi anni Nelle vite dei personaggi Che non ci viene spiegato Arianna Ha un marito Che sembra essere Americano Che a un certo punto Lidica con lei Se ne sta andando E ha un figlio Nicolò Che è piccolo E quindi vediamo Arianna in versione mamma Però non è che ci spiegano Perché questo Se ne sta andando Non ci dicono Qual è il background Di questi ultimi anni Anche di Duccio Ad esempio Sappiamo che Duccio È diventato Un regista di Bollywood Perché si porta dietro Lorenzo E tra l'altro C'è anche questa trovata Di lui che arriva e fa Non si gira Sto guardando il cielo Non si gira Ma che c'entra il cielo Gli fa gli R&D Giriamo in teatro Ho capito No ma è deformazione Professionale Sai come mi chiamano Gli indiani Duccio no shooting Tutto attaccato Con Lorenzo Che è in carattasica Dicendo In India Quando Duccio Guarda verso il cielo La gente si caga sotto Ed è anche bello Questo rapporto Tra Duccio e Lorenzo Che non si sopportano Ma comunque Hanno trovato il modo Di collaborare Ma c'è poi il colpo di scena Su Duccio Che ha sempre sui occhiali Da sole Perché lui È diventato cieco Per via della cataratta Ma non si vuole operare Perché è pigro E perché dice Ma non so Quando le cose le vedevo Mi derudevano sempre Quindi forse è caso Di non vederle proprio Tanto c'è il ragazzo E quando poi si opera La cataratta Non può tirare di coca Per tre mesi E torna a essere Il Duccio Direttore della fotografia Di cui René Cantava le geste Ogni volta che diceva Voglio il tè Di vent'anni fa E questa cosa Mi è piaciuta un sacco Poi hanno messo L'omaggio a Itala Che a me È sembrato perfetto Perché c'è René Che legge La lettera Che ha lasciato Itala Ma è stata scritta Talmente bene Questa lettera Che ti sembra Di sentire parlare Roberta Fiorentini Cioè Itala In quella scena C'è L'attrice è morta Il personaggio Non è presente Ma si vede Che avevano Talmente affetto Per l'attrice E per il personaggio Che Vendruscolo E Cerrapico Hanno scritto Hanno messo in bocca René Ferretti Le parole Lasciate da Itala In questa lettera E sembra di avere Itala lì Tra l'altro C'è René Che dice Duccio Ci dia a informarci Che è a girare a Dubai Ha sentito il calore Di Vendruscolo E Cerrapico Che dovevano Anche farlo In un certo senso Per il loro collega Scomparso A cui c'è l'omaggio Subito All'inizio Con lo sceneggiatore Deceduto Che però Gli altri due vedono Quando scrivono Loro Vedono l'altro Che gli dà i suggerimenti E c'è René Che dice Ma dove cazzo guardate Fa ma fatti i cazzi tuoi E poi arriva la critica Alla piattaforma Quindi bisogna essere inclusivi Tanto nella sceneggiatura Nell'ettenere agli attori Quanto Nella troupe Con Biaschica Che viene declassato Come capo elettricista Da seconda unità Perché durante il backstage Aveva fatto così E la produzione Ha detto Sta facendo razzismo Perché si sta tirando gli occhi Come per sfottere Le persone asiatiche Con Biaschica Dice Oh me stavo a scaccolare Lo giuro Me stavo a scaccolare Ma sui set professionali Non ci si scaccola Interviene Lopez Che Lopez Che è Antonio Catania È un personaggio Molto importante Per quanto riguarda Questo Questa Questa stagione Perché sopperisce A Sergio Sergio Come ho detto prima Incarnava Tutti i difetti Dell'italiano medio Di tutto ciò Che non funziona In Italia La umma um L'arte di arrangiarsi Cioè di ottenere Il massimo risultato Con il minimo sforzo Per cui Lopez Ha dovuto essere Un po' più merda Rispetto alle stagioni precedenti Quindi È in combutta Con il cugino Michele Che è un non dranghetista Gli prende gli scagnozzi Come comparse Che sono Dei buzzurri Cioè questo personaggio Che ci prova tanto Con la nuova Stagista Dell'assistente alla regia La nuova Alessandro Lalla Che è un personaggio Anche lei Che non ha grossi sbocchi A un certo punto Va letto con Alessandro Non è che questa cosa Ha un senso Non viene chiuso il personaggio Arianna La caccia Lei se ne va E non è che la vediamo più E c'è questo tizio calabrese Che ci prova tanto con lei Ma anche quel personaggio Non va da nessuna parte Fa solo ridere In alcuni momenti Fine E poi abbiamo anche E poi abbiamo anche altre grandi Frasi agitabili Come anche Quando devono parlare Devono parlare Del massacro Degli innocenti Ma non hanno abbastanza soldi Per girare la scena E i sceneggiatori dicono René Odimo Odimo Lo diciamo Lo dobbiamo Lo diciamo Lo facciamo dire E questa cosa Come sempre accade In Boris Inizia a diventare grottesca Man mano che si va A un certo punto Non hanno più soldi Per girare delle scene E c'è questo montaggio Con i cittadini pettegoli Che parlano tra di loro C'è quello che entra Oh Ma voi non lo sapete Cosa ha fatto Joshua Ha cacciato Ha cacciato Gli ambulanti Dal tempio E a un certo punto C'è uno che Dopo un paio di queste scene C'è uno di loro che dice Ma non sapete cosa ha fatto Ha preso una spada di fuoco Di due metri e mezzo Ed è andato in giro Ma questa cosa Veramente è successa No me la sono inventata adesso Io lì stavo morendo Perché è Il classico momento In cui sembra Che la troupe Stia facendo qualcosa Di qualità Ma siamo in Italia E subentra sempre Quel marcio Che rende tutto Più schifoso Quindi Le cose Sembrano cambiate Ma se una volta C'era l'attore L'attore cane raccomandato I soldi che non ci sono Il delegato Il delegato di produzione Che si è fumato Tutti i soldi Per giocare Le corse di cavalli Qua ci sono altri problemi Ad esempio Biascica Che deve essere allontanato Dal set principale Perché ha fatto così Ed è stato scambiato Come gesto razzista Il fatto che non ci sia Abbastanza inclusività Nella troupe Ci sia Lopez Che vuole scoprire Se c'è qualche omosessuale Nella troupe A un certo punto Se la giocano con Duccio Che dice tranquillamente Che sono 25 anni Che non fa sesso Perché non ne sente bisogno E quindi Sono contenti Di avere la sessuale Nella troupe Con Duccio Che dice Cosa devo fare Niente Bene Quello lo so fare Quindi C'è comunque Il click Tra i personaggi Ci sono i guizzi Poi per l'amor del cielo Ci sono cose Che funzionano di meno A un certo punto Nelle ultime puntate Sembra quasi Che non ci sia Neanche più Una vera e propria trama Si va avanti Per scene divertenti Ma che di per sé Non sono collegatissime Tra di loro Però subentra Il mistero René Che Che imbeccato Da Glauco Interpretato come sempre Da Giorgio Tilebassi Che compare in un paio di episodi Come in ogni stagione Il resto In realtà Di solito compare in un episodio Qua compare già di più Gli dà l'imbeccata E hanno un'idea Ma non si capisce Quale sia questa idea E per diversi episodi Tu cerchi di capire Che cazzo sta facendo René Con Glauco Ma soprattutto Con Tatti Barletta Ve lo ricordate? Tatti Barletta Che veniva citato Più di una volta Nelle stagioni precedenti E anche nel film A un certo punto Ce lo mostrano Ed è Edoardo Pesce Ed è un personaggio Abbastanza insopportabile Ma ha un ruolo chiave Tatti Barletta Che interpreta Giuda Nella serie Vita di Gesù Che a un certo punto Diventerà Gli occhi Gli occhi Del cuore sacro Di Gesù Con Stanis Che mentre è sulla croce Guarda Maria E dice Sono colpevole Sono colpevole Di amarti Quindi torna Il guizzo Malevolo All'occhio Del cuore E Quando poi si capisce Che cosa sta facendo René Lì è una bella trovata Cioè Qui è importante Perché Glauco È una persona Che a René Vuole bene Però Diciamo che vuole Più bene a se stesso E quindi Pensa sempre Molto A se stesso Stavolta Glauco Sì Prima chiede il favore A René Per fare da sponsor Al cinema Al ministero del cinema Namibiano Eccetera Però poi Vede qualcosa Nelle scene di Giuda E dice a René Tu devi prenderti qualcosa Da questo set È la volta buona Che ti prendi qualcosa Cioè lui lo fa Perché in fondo Vuole bene a René E vorrebbe vedere Il suo collega Amico Fare qualcosa Finalmente di bellissimo E quindi Si rendono conto Che funziona di più La storia di Giuda Omosessuale Innamorato di Gesù Che alla fine Lo tradisce Per 30 denari Ma noi Tutto questo parte Dalla scena di Giuda Che dà i 30 denari Ad un vagabondo E capiamo che si sbarazza Di quei 30 denari E poi René Spiega Alla figlia Perché c'è anche Fabiana Verso la fine Della stagione E spiega a Fabiana Che Giuda Sa che il destino Di Gesù è morire Per liberare L'umanità Delle sue peccati E diventare La persona Intorno a cui Si creerà un culto Perché per lui Sarebbe stato più facile Vivere la sua storia D'amore con Gesù Vivere felici Scappare Ma sa che non può farlo Quindi Finge di tradirlo Per consegnarlo Al suo destino E io vi dico Che quando ho visto Questa cosa Ho detto Ma io questo film Cazzo lo voglio vedere Lo voglio vedere Devo vederlo assolutamente E c'è questa scena Negli ultimi minuti Con René Che mette questo Lo monta Mette il film online Senza la Senza volere soldi Senza dirlo alla rete Ovviamente Fa un torto Alla mafia Calabresa Andrangheta Che ha messo i soldi Nel progetto Da cui lui ha rubato Ma anche alla piattaforma E Alla fine La piattaforma È più pericolosa Della mafia stessa Perché sono loro a trovarlo A convocarlo a Londra A dire che Lo manderanno in galera E allora René Fa una cosa Mette Questo vinile Gli parte La canzone principale Di Flashdance Ok Con lui che balla Ed è una scena stranissima Ma perché balla Con gli scaldamuscoli Ma che cazzo è sta scena Ma lui Qualche puntata prima Quando parlava Le social media manager Che era quella La social media manager Che diceva Ti vedremo bene Per TikTok Lui dice Ma sai A me piace ballare Perché io Mi vergogno un po' a dirlo Ma è sempre stato il mio sogno Quella Allora Dario parlandone Con Dario Lui ne parlava Io non avevo ancora visto Quel pezzo Quando se ne parlava Quindi non sapevo Che interpretazione dare Perché non avevo visto La scena Lui ma anche altri Hanno interpretato Quella cosa come La locura Che ritorna Quel pizzico di follia Che fa ragionare I produttori Che decidono Di produrre il film Per la piattaforma Invece Io l'ho interpretato In un modo diverso Quella è metaforica È ermeticissima È René Ferretti Che decide Di fare qualcosa Che non ha mai fatto Lo sceneggiatore defunto Lui lo vede Che gli dice Ferretti Segui la musica Ma segui la musica È un consiglio Che si riferisce Secondo me Al sogno Cioè segui il tuo sogno E lui offre A questi produttori cinici Da cui lui ha rubato Il suo sogno Quella cosa Che non ha mai avuto Il coraggio di fare E si mette a ballare E li convince Perché è un uomo Che si sta giocando Il tutto e per tutto Che sta seguendo Fino in fondo Il proprio ideale Qui René Ferretti Si spende Fino all'ultimo Fino all'ultima goccia Di sudore E credo Che sia una metafora Bellissima Tra l'altro C'è ancora Martellone Che vuole fare Il Gifuni In riferimento Fabrizio Gifuni Che è un grande attore Italiano Di teatro E di E di cinema Per dirvi Vi cito un film Con Gifuni Prima che viene in mente Il capitale umano Lui è Il ricco finanziere Che crea il fondo A cui di Nossola Che Fabrizio Mentivoglio Partecipa Ecco Quello È il marito Di È il marito Della donna Della donna Stanca Che non Che non Che non Che non Ha più niente Alla vita Ecco Che doveva essere Patrizio Lante Della rovere Comunque sia È È È un momento Quello Quello di cui parla Di Gifuni Che mi ha fatto ridere Perché lui vuole Non vuole Lui fa zaccheo qua Anche il momento Ma Corcazzo Che la vendo La villa Troveianica Attaccate al cazzo Che è sempre un po' Quello che ha fatto Martellone in Boli Spera bellissimo Perché alla fine C'è la presentazione Del film E c'è Martellone Che incontra Gifuni E dice Gifuni Mi dicono che ti sta ispirando a me Sì ma sempre Con grandissimo rispetto No ma Tu però devi tenere Il martellone E il Gifuni Poi lo guarda E gli fa Non sono Gifuni Sono Favino 15 ore di trucco Perché C'è Tornava la battuta su Favino Prima Con Martellone Che dice Poi volevo far Favino Ma io quel trasformismo Non ce l'ho Craxi Buscetta Lui può fare tutto Addirittura pare che Favino Stia facendo Favino 10 ore di trucco Identico E alla fine Gifuni Che si presta Per far finta di essere Gifuni Che in realtà è Favino Che è truccato da Gifuni Mi ha abbastanza ammazzato Ma poi c'è una Scena di un'amarezza Sul finale Quella veramente amara Con Lopez Che dice Oh zio A Michele Oh Michele Che è il cugino Michele A Michele Ti è arrivato il bonifico E lui dice Ma figurati se me ne frega Di queste cose Ma no Però hai visto Sei diventato ufficialmente Un produttore Guarda Cucucu Scrittola per tutto E Michele risponde Ma sai Lopez Io in realtà Non credo di voler più far parte Di questo mondo del cinema Io torno a fare le cose mie Troppo cinismo Troppa cattiveria Detto da un dranghetista È Veramente Amara Come cosa Quando Alison La capa La diciamo La responsabile Internazionale Della piattaforma Parla con loro A un certo punto Parla con René Alla fine Dice Ti ho trovato Pezzi di merda Ma come hai potuto farci questo E lui Dice Veramente avevo paura Che mi trovassero prima Altre persone E lei risponde Noi siamo più efficienti Di malavita organizzata Quindi È Capito Il confronto Tra le due cose Come dire Per dire Che sono C'è un C'è talmente marcio In quel mondo Che non è tanto diverso Da altre realtà Altrettanto terrificanti Quindi È È un'esagerazione Ovviamente Però L'ho trovato Un parallelismo Di un'amarezza Di una cattiveria Impareggiabile E poi C'è Poi le scene con Alison Sono fantastiche Perché a lei Non gliene frega niente In realtà del progetto Non sa neanche cosa sta facendo Fa le call Mentre è in kayak Mentre è nel deserto E poi c'è la scena bellissima Con René che fa Eta Quando gli danno il lock Dai 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 Con lei che ci rimane male E Lopez che dice Ma guarda che Dai 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 In inglese Vuol dire Muori 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 Con lei che ci rimane Giustamente male E il finale vero e proprio È un finale speculare A quello del film Nel film C'era lui René In sala con tutti Che vedeva come Il film sulla casta Si trasformava in un cinepanettone Che poteva essere Interpretato Come diceva anche il buon Darion È come una Una sorta di visione Che lui ha Quando sta girando Il giovane Ratzinger Gli dicono che deve girare La scena come vogliono Lui si immagina Di provare a fare Un film di qualità Di andarsene E in realtà poi Finisce a schifio Come al solito Oppure può essere Interpretato anche Come qualcosa di realistico Per l'amor del cielo Comunque sia È una scena Molto speculare Stavolta però René Ferretti Ha fatto effettivamente Il capolavoro Perché c'è il momento Che si vede anche Il trailer con i sceneggiatori Che lanciano le palline di carta Le foglie appallottolati Nel canestro Dicono Se ne riesci a mettere Dentro 3 su 5 René Fai il capolavoro Per una volta E se non riesco Una merda Come sempre I primi due Vanno fuori Poi Il terzo Il quarto Vanno dentro All'ultimo Che sancirebbe Il successo Metaforico Del progetto Del film Lancia E si ferma Sul ferro E dicono Prima o poi Cadrà E quando René balla E convince i produttori I produttori dicono Forse possiamo trovare un accordo Si vede Il pezzettino di carta Che cade E si vede La scena di Lorenzo Che vede questa scimmietta Che rappresenta l'algoritmo Perché lui è fatto di LSD Per tutta la stagione Che viene schiacciata Dal foglio di carta Pallottolato Allora Questa cosa È un po' particolare Perché si parla Dell'algoritmo Di continuo Si parla dell'algoritmo L'algoritmo ha detto Che è come se fosse una persona Però è vero Che l'algoritmo È molto importante Per le serie Perché Perché Che cos'è l'algoritmo È un sistema di calcolo Ok Che ti suggerisce Cosa guardare Siamo in un'epoca in cui Tu apri una piattaforma di streaming E se non hai un indirizzo Tu non sai che cazzo guardare Perché hai troppa roba C'è una bulimia di contenuti tale Che potresti stare anche Mezz'ora Due ore Quattro ore Solo a vedere Quali film potrebbero Quali film o serie potrebbero piacerti Qui entra in gioco l'algoritmo Nel momento in cui tu Selezioni il primo contenuto Sulla piattaforma L'algoritmo Individua che a te piace Roba di quel tipo E a un certo punto Ti viene la striscia Dei selezionati Da guardare Perché hai guardato questo Potrebbe piacerti questo E molte persone Si affidano All'algoritmo Perché è così tanta La roba da guardare Che preferiscono Che a dirgli Cosa potrebbe piacergli È l'algoritmo Che ha individuato I tuoi gusti Che è una cosa Se ci pensate Abbastanza tremenda Io ad esempio Non ho di questi problemi Perché lo faccio di mestiere Quindi sono informato So già cosa guardarmi Poi ogni tanto Vado a guardarmi qualcosa Ma non ho mai usato Mezza volta Il suggerimento Della piattaforma Mai Proprio perché Io voglio avere L'autonomia di decisione Può sembrare stupido È quello che volete Ma Non voglio Che sia un computer A dirmi cosa devo guardare Per me Capisco che è comodo Ma mi viene l'ansia L'idea che A un certo punto Non sei più tu a decidere Ma decido un computer Perché Per te Perché lui Conosce i tuoi gusti I miei gusti Li conosco io Può sembrare un discorso estremo Ma guardate che Secondo me È inquietante Quindi René Fa Ciò che nessuno Si sarebbe aspettato Segue il suo sogno Ha visto Grazie a Glauco La possibilità di fare Per la prima volta Nella sua vita Per davvero Qualcosa di bello Non ha potuto fare Il Machiavelli Non ha potuto fare Medical Dimension Non ha potuto fare La casta Stavolta L'idea Per fare qualcosa Di bello È lì È sulla sua strada È qualcosa Che ha intuito Grazie a Glauco Ma l'ha intuito E allora si butta Si gioca il tutto Per tutto E La pallina di carta Schiaccia La scimmietta Dell'algoritmo Nella visione Di Lorenzo Fatto di LSD Perché è lui Che ha rotto L'algoritmo L'algoritmo Che voleva L'inclusività Forzata L'algoritmo Che voleva Gli amoritin Se nella vita Di Gesù Non ci sono Gli amoritin E si devono Inventare la storia Di Gesù E Giuda Da giovani Che però Diventa Qualcosa Perché lui Poi all'inizio della serie Propone ad Alessandro Questa storia Ambientata Negli anni 70 Che però Negli anni di Piombo È bella Ma la rete Non è molto convinta La rete La piattaforma Non è molto convinta E lui lo fa In salsa palestinese In salsa palestinese Antica Questa cosa È bellissima E c'è La sala gremita Con i due sceneggiatori Che sono seduti Con una terza Con il posto vuoto Lì al centro Con una signora Che arriva E dice Posso sedermi E loro dico No E poco dopo Vediamo che si materializza Sulla sedia Valerio Aprea Si apre Il film Con il bambino Piccolo Giuda Che lancia Il sassino Il fiume La madre Che lo guarda E c'è La voce Fuori campo Di Tatti Barletta Che è Edoardo Pesce Che dice Io da piccolo Volevo cambiare il mondo Ed adulto Purtroppo L'ho cambiato Nero Compara una foto Mi viene da piangere Compara una foto Di torre Vendruscole Cerrapico E la scritta Tu a noi Il mondo L'hai cambiato Ed è una Scusate Un omaggio Bellissimo Cioè tu qui vedi Maronna Tu qui vedi Il L'amore Di queste due persone Per il loro amico E collega Scomparso E la soddisfazione Di essere riusciti A riportarlo In vita Nella memoria Anche solo Per questa stagione Riportando in vita Il prodotto Per cui Lui E loro Sono stati maggiormente Conosciuti Nella loro carriera Ed è stato bellissimo È un finale Di una Con loro Comprano un'altra scritta Addio collega È bellissimo È splendido È un finale È perfetto È un finale Cioè io Per me questo È come il finale Di Scrubs Io ogni volta Che guardo Il finale Di Scrubs Piango Come una fontana Ogni volta Che riguarderò Il finale Di Boris 4 Io piangerò Come uno stronzo Perché è Bello È passionale È tenero È dolce Cioè per una volta Arena Ferretti È andata bene Ha fatto il film Che forse lo consacrerà Magari non lo sapremo mai E gli sceneggiatori Hanno finalmente scritto Qualcosa Di Bello Di profondo Peraltro Questo film L'ha scritto anche Il personaggio di Aprea Mi piace un po' Pensare Che loro Sentissero In un certo senso Spiritualmente Torre Quando scrivevano Boris 4 È una cosa È una cosa Bella Cioè è veramente Un finale Per me è perfetto Ma anche il balletto Di René Che sembra inutile In realtà Ha un significato Metaforico La scimmia Che viene schiacciata Da pallottola di carta Gli ultimi 5 minuti Sono perfetti Perfetti Veramente E poi Alcuni si sono aumentati Il fatto che Alessandro Non cambia Ma Alessandro ragazzi Non è mai cambiato Alessandro era La faccetta di cazzo All'epoca Ed è la faccetta di cazzo Adesso È così È diventato Il capace della piattaforma Ed è sempre supponente Sempre stronzo E comunque Nessuno lo rispetta Lo stesso Lo fingono Di rispettarlo Perché è il capo Ma in realtà Non lo rispetta nessuno Perché non è cambiato Nella virgola I personaggi Non sono cambiati L'unico Ma in realtà Non è neanche Mi veniva di dire L'unico cambiato René Ma non è vero René Non è cambiato René è sempre uguale René è Lo dico anche qui L'avevo detto in live Da Dario Il Fantozzi Dei nostri tempi Qual era La caratteristica Di Fantozzi Fantozzi era Un omino Servile Schiacciato dai potenti Però Fantozzi Aveva una caratteristica Che non avevano Altri Lui era sempre lì Lo potevano murare vivo Nel sottoscala Potevano investirlo Potevano picchiarlo Potevano Poteva morire Ma comunque Tornava Letteralmente È morto Ed è tornato Perché Fantozzi È indistruttibile È inossidabile Nella sua sfiga Nella sua Nella sua inettitudine Fantozzi È una colonna René Ferretti È rimasto deluso Tante volte Lo hanno Cercato di fare fuori Dai progetti Mille volte Ma tornava sempre E ogni volta Nonostante il fallimento Precedente Cercava sempre Di fare qualcosa Di nuovo Fallisce Gli danno il Machiavelli Lo vogliono far fuori Lui vuole fare il Machiavelli E se ne va d'occhio De cuore Vogliono Gli vogliono far fare Medical Dimension Per fare la televisione Meglio diversa Lui la fa E lo prende nel culo Lo stesso Va a fare La casta La prende in culo In quel posto Non importa Ancora Ha la forza Di dire Io il fin su Giuda Innamorato di Gesù Lo voglio fare Perché una volta Prima di morire Io ho bisogno Di un successo E Vendrusco e Cerrapico Per una volta Hanno voluto dare Un finale Decente A René Ferretti Alla troupe Alla fine René È riuscito a fare Il suo capolavoro Un finale positivo Amaro Ma positivo Bellissimo Io l'ho trovato Geniale Ragazzi Poi Anche Stanis Non ha una vera e propria chiusura I bisticci tra lui e Corinna Che stanno per divorziare Non si capisce bene Ci sono tante cose che non vanno Però Fotografia Fatta benissimo Secondo me Regia Stavolta Ancora migliore Rispetto ai precedenti Interpretazione degli attori Neanche ve lo sto a dire Anche Qui anche i comprimari Sono stati bravissimi Boris 4 Per quanto mi riguarda È Quello Di cui c'era bisogno Boris Ormai l'ho capito Da quando esiste Arriva sempre Al momento giusto Io Non credo che Vendrusco e Cerrapico Vedranno mai questo video Però Lo stesso Rivolgo a queste parole Grazie Grazie E non è per fare Una leccata di culo Ma perché Forse ne avevo bisogno Anche io Non chiedetemi come mai È un periodo un po' In cui sono un po' stressato Ma ci sta Può capitare Però Io divento anche molto riflessivo E mi ha fatto pensare tanto A me stesso Un po' Io mi identifico Sempre tanto In Renè Ferretti Quando fai dei progetti Hai sempre paura che falliscano Cerchi sempre di trovare Il modo di farli Il meglio possibile Magari però c'è qualcosa Che ti rema contro Quindi grazie Perché avete dato Questa storia di Questa conclusione di speranza Renè Ferretti È stato bello È stato bello Io Penso che questa Me la riguarderò ciclicamente Come faccio con tutte le altre Perché Sta Da oggi Da ieri Ho una stagione di Boris In più da guardare Una volta al mese Perché io Boris sono in rewatch Perenne Lo guardo di continuo Quindi È realmente Una delle mie serie preferite In assoluto Vedere una quarta stagione Così imperfetta E per questo Così in forma Perché Secondo me L'imperfezione Arriva Quando c'è anche Tanta passione Quando la passione Supera anche Certe piccole difficoltà Io vi dico Non cambierei nulla Di questa stagione La voglio Così com'è Anche Con i suoi Difetti Quindi Grazie A Grazie a Vendrusco Cera Pico Ed è caso di dirlo Anche a Mattia Torre Che comunque In qualche modo C'è stato In questa In questa stagione Grazie mille Io Abbraccio tutti Vi ringrazio Sicuramente qualcosa Qualche battuta Qualche cosina L'ho lasciata da parte Perché tanta roba da dire Non ho citato magari Karin Anche Karin Arriva lì così Per fare le stesse cose Che ha sempre fatto No La scena della lavanda dei piedi Joshua Damme sto piede La scena del feticismo Come la picchiava lei Eppure era divertentissima Quindi Anche Biaschica Non ha un particolare finale La cosa di Lorenzo Che si prende le siccala All'LSD Per cercare di vedere L'algoritmo Che per la fine lo vede Ed è grazie a lui Che abbiamo la visione Della scimmietta Ma ci sta Nonostante i difetti Io Non cambierei Mezza Virgola Fatemi sapere voi Come avete trovato Questa quarta stagione di Boris E se non avete mai guardato i lavori Spentitevi E fatelo subito Quindi Noi Ci vediamo Al prossimo Mui vlog Ciao a tutti